Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì, una giornata piovosa e volevo dire in questo video oggi che sono terminati ed è stato aperto al pubblico da una settimana i lavori per la nuova area giochi del Parco Avisaido, lavori che non sono conclusi per il Parco Avisaido, infatti non abbiamo programmato ancora l'inaugurazione del tutto, ma aspettiamo di aggiungere due cosette, dopodiché organizzeremo un'inaugurazione fatta per bene e mi auguro che venga utilizzata nel migliore dei modi come tutte le aree giochi del Paese, sperando che non si debba andare poi ad aggiustare dove vengono fatti alcuni danni, quindi attenzione da parte di tutti i cittadini, attenzione da parte di tutti coloro che ne usufruiscono e ci auguriamo che questa nuova area giochi sia ben apprezzata, ben apprezzata dai bambini di Fagnano. Notizia che non è notizia perché il 18 di questo mese ha aperto la posta, dopo vari rimandi per lavori per problemi tecnici finalmente Fagnano è tornato a funzionare il suo ufficio postale. Ora do una notizia invece che arriva da Regione Lombardia e che è la questione dei soldi messi a disposizione per i danni causati dal maltempo nel mese di luglio, i privati cittadini la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata dagli eventi calamitosi naturali, accorsi in Regione Lombardia nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023, possono presentare domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione, finalizzata a ripristino all'integrità e funzionamento della stessa. Sul sito del Comune, sul sito istituzionale del Comune di Fagnano-Lonna trovate il link apposito per accedere e fare domanda a questi soldi. Gli eventi del fine settimana, questa sera alle ore 18 presso l'Aula Pluriuso della Biblioteca, l'evento dedicato all'ex colonia helioterapica proposto dal CRT, il titolo dell'evento è La colonia e i suoi racconti. Sabato alle ore 18 sempre nella sala pluriuso della biblioteca prosegue la rassegna Il caffè con l'autore in compagnia di Franco Cavalieri e del suo romanzo E il giorno si fece polvere. Mentre domenica faccio un invito per un evento che avviene fuori dal nostro territorio in Solviatelona, presso il Centro Culturale e l'Auditorio di Solviate, alle ore 15 la proiezione del documentario di Filippo D'Angelo sul cotonificio di Solviate. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!